L'incontro a Roma presso il Ministero per lo Sviluppo Economico sul futuro di Eutelia, l'azienda retina specializzata in telecomunicazioni, è in calendario per venerdì prossimo 20 gennaio. Le parti devono arrivare ad un accordo con la nuova proprietà, l'accordata Piero della Francesca, che il 30 dicembre scorso è stata dichiarata vincitrice della gara d'acquisto. L'incontro, previsto inizialmente per il 13 gennaio scorso, era stato annullato perché la nuova proprietà non aveva completato la documentazione richiesta dallo stesso Ministero. I vertici, qualche giorno fa, hanno annunciato il mantenimento dell'80% della forza lavoro di Arezzo, rinviando il riassorbimento completo tra un anno, se l'azienda avrà mostrato segni di recupero sul piano economico e produttivo.